Musica Bella a tutti ragazzi qui è Bazo che vi parla e oggi siamo su di nuovo sui Flash Game Non ho ripetuto su un'altra volta però fa niente, freghiamoci Oggi andiamo con Gold Hunter perchè so che lo scorso episodio ha raggiunto 5 mi piace Non è vero, non ha raggiunto 5 mi piace per niente perchè riconoscire il video semplicemente Il club dell'amicizia dei poni non mi interessa C'è sta tizia qua che ti invita a giocare a poker Gold Hunter sembra tipo, significa tipo i cacciatori d'oro, una cosa così Pop Casual Carmi Perchè questi qua hanno, questi giochi hanno sempre uno Vabbè Perchè Perchè Sto capendo a niente. Voi nei commenti ditemi se vi state capendo qualcosa, sicuramente non capisco, ma seriamente? Due di dodici? Sei pazzo maniaco? Non capisco. Are you serious? No, ma se il siedo non l'avevo capito che potevo muovermi. Se voi l'avevate capito scrivetemelo nei commenti. 20 secondi e sei un pazzo maniaco. Torni dietro, riprendilo. Passa al tizio. No! Riprendi. Fai così. Sì. Adesso fai A. 18 secondi. Ora ho capito però. Cioè quello di prima seriamente non si poteva fare meno di quel tempo lì. 20 secondi. Cioè questi 12 secondi hanno più sbagliato. E' quello di prima. 20 secondi. 20 secondi. No, c'è qualcosa che deve funzionare. Sì. Ok. Certo. E' un piccolo. Non è un piccolo. Allora, una piccolo. new, ma non è un piccolo. Signor. Ma esdo no. Ok. ok ah ho capito devo stare lontano da lui muoviti 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 adesso lancia praticamente così mi metti delle scuole bravo 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 e così non stare in equilibrio su una gamba non far cadere l'oro muoviti 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 ho capito cosa devo fare ho capito che tu vuoi lanciare le robe però grazie muoviti muoviti uuu muoviti nuoviti uuuum Non ci stavo capendo più l'accidente, no, no, sincero, c'erano 12 secondi, quello lui è cattivo qua, cannata, no, fatta giusta, pensavi di avermi fregato, quanto stelle, vai col primo, vai col primo, sarò più veloce della luce, vai, story story, story story, 3 stelle, 3 stelle anche il secondo, sai cosa mi interessa, vai, no devi rifare, devi rifare, devi rifare, non va bene, devo stare puoi, devi essere più veloce, ma questo è il punto dove ci siamo, e vai, eh eh, 3 stelle, no, ne ho 10, Dicido... Così? Stai scorsando? Ok, allora... Volevo prendere... Dile mite... Lancia la Dile mite... Cioè vuoi di non chiederlo lanciando, Dile mite ha quel tizio lì... E poi... Quello che ha realizzato questo gioco ha dei problemi ambientali... Viglio... E' ridata... Per cui devi lanciarla così... Non è giù andramile... Non è giù a lui... Ho buggatissimo il gioco... un minuto e 07 devo fare almeno un minuto o tre stagioni no vai mi fa salire il nervoso queste robe qua ah no devi ricominciare alza 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 vai avanti comunque solo un genio lo so che questo gameplay verrà poco parlato però mi salverà vero tutta la fatica che ho fatto per far sta roba anche questo video qua è finito mi raccomando andate in descrizione con cliccate il link ci dovrebbe essere il link che ho scritto nuova maglietta andate e compratela perché è fantastica proprio fantastica e anche per oggi il video è finito mi raccomando spolliciate per farmi vedere che anche i flash game vi piacciono se non vi piacciono scrivetemelo pure nei commenti o mettete dislike e allora non continuerò più questa serie ma andrò avanti con le normalissime serie cioè vampire saga diavolo 3 minecraft vanilla adesso dovrebbe uscire una mappa su minecraft vanilla non so perfettamente quando sei mercoledì prossimo sabato prossimo comunque ciao